Rappresenta un passaggio storico importantissimo, la fine di un periodo perlomeno dal punto di vista simbolico, non dal punto di vista culturale perché la ripresa, la rinascita è un processo molto lungo. Da un punto di vista simbolico invece è un grande segnale, un luogo che rappresenta una storia, rappresenta una ferita, una macchia del paese e quindi l'abbattimento è il segno di una rinascita, di un distacco, di un riscatto, l'inizio di un riscatto. Posso dire con una certa fermezza che la presa di coscienza c'è nel paese, non c'è magari forse ancora la libertà, la parresia, la schiettezza di parlare, di manifestarsi, però la presa di coscienza c'è, un cammino di rinascita c'è. È graduale perché i processi culturali sono molto più lenti di quelli giuridici, di quelli biologici.